Abbiamo colto quest'occasione per far riflettere tutti gli addetti ai lavori politici e non per cercare di dare una opportunità a questo territorio, a questa valle. Ormai sono 40 anni che cerchiamo di stimolare questi politici a dare un'occasione a questa valle. Sarebbe ora e sarebbe il caso anche con questo nuovo PNRR di dare qualche possibilità e qualche occasione a questa nostra montagna e a questo nostro mare. Cosa l'ha colpita di più di questa 44esima edizione? Noi siamo sul Tratturo Magno quindi abbiamo appena assistito a una mostra canina del pastore nostro, il pastore abruzzese che un po' rievoca gli antichi periodi della transumanza. In questo luogo passavano e si intrattenevano i nostri pastori creando anche una sorta di mercato e anche qui la motivazione logistica di questa fiera e quindi vedere questi guardiani bianchi sparsi in lungo il Tratturo Magno è un qualcosa che insomma crea una certa emozione.